La vertenza della provincia continua a rimanere nei risvolti di una situazione alquanto assurda, perché è assurdo uno Stato che abbandoni lo Stato, una realtà di un Paese che potrebbe dare ovviamente spinte in avanti sulla soluzione di problemi critici che ci sono e che in ogni caso se non muove le condizioni del superamento di questa fase rischia di compromettere con la debolezza del pubblico, anche tutte le speranze e le difficoltà che ci sono nel settore privato. Siamo ancora in aperta trattativa con la Regione e con il Governo centrale e auspichiamo che delle soluzioni più responsabili e più immediate possano essere prese in considerazione, anche perché continua la protesta dopo nove mesi di lunga attività, continua la protesta sui tetti e continua una situazione molto pericolosa anche per l'incolumità stessa dei lavoratori e delle lavoratrici e in questo senso ovviamente alcuni segnali sono pervenuti, ma assolutamente non sono ancora sufficienti e né tantomeno nulla si è realizzato concretamente in avanti, ma siamo fiduciosi a che possiamo assolutamente acquisire una condizione di serenità per guardare i processi complicati della riforma, ma soprattutto la sicurezza delle tante famiglie e dei tanti lavoratori di questo territorio e di questa provincia. Grazie